Giovane sbranata da cani in Pineta Satriano, allevatore condannato a tre anni. E' stato condannato a tre anni di reclusione il 46enne Pietro Rossomanno, l'allevatore di Satriano, accusato della morte di Simona Cavallaro. La ventenne sbranata il 26 agosto 2021 da un branco di cani a guardia del greggio e di proprietà dello stesso Rossomanno. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Catanzaro, che ha riqualificato per l'imputato l'omicidio volontario in omicidio colposo. Nei confronti di Rossomanno, che era accusato anche di introduzione e abbandono di animali e di invasione e occupazione abusiva di terreni, la procura di Catanzaro aveva chiesto una pena di 15 anni. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'allevatore avrebbe lasciato pascolare in sua assenza il greggio di capre e pecore e il branco di cani al seguito e quindi non avrebbe vigilato sul comportamento dei cani, che avrebbe causato la morte di Simona Cavallaro. Condannata invece a otto mesi di reclusione, la madre dell'allevatore, Maria Procopio, 69 anni, per la quale l'accusa era di invasione e occupazione abusiva di terreni.